Pino poi sei stato a mangiare con il ristorante nuovo? Domenica a pranzo. E com'è? Guarda si mangia bene e poi hanno anche un servizio fantastico dei camerieri reattivi al massimo volevo chiedere un'informazione sui dolci allora è passato un cameriere gli ho detto scusi a un secondo e lui mi ha lasciato lì una grigliata di carne fantastico